Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Finalmente riesco a registrare questo video haul dei saldi, perché è un sacco, un sacco, un sacco di tempo che ho le cose lì messe da parte e uno, non le ho utilizzate, due, occupavano spazio, tre, era ora di darsi una mossa. Quindi eccoci qua finalmente, come vedete ho pure il capello riccio, perché con questo caldo ho deciso che per questo mese li lascerò asciugare all'aria e questo è più o meno il risultato, i miei capelli naturali, quindi spero apprezzerete, tra l'altro mi sono truccata dopo due, forse anche tre settimane di astinenza, quindi direi che ci siamo, è tutto in ordine, possiamo iniziare. Io direi di partire con le cose make-up per poi arrivare a tutto quello che riguarda l'abbigliamento. Sono stata iper mega felice di essere passata da Sephora, perché di solito non ci passo quando ci sono i saldi, perché fondamentalmente non ho bisogno di comprare altri trucchi, però questo prodotto in particolare l'avevo visto da Martina, che su Instagram si chiama My Vision Beauty, e avevo visto che lei era andata alla Sephora a Milano e aveva trovato questo prodotto di Kat Von D in sconto. Io già lo volevo prendere, in più ho detto magari passo, botta di sedere e lo trovo. Premetto che questo prodotto qui, nelle Sephora almeno di Roma, ho faticato a trovarlo, infatti quando chiamavo mi dicevano tutti che non l'avevano, che probabilmente l'avrebbero ritirato, eccetera eccetera. Quindi potete immaginare la mia felicità quando l'ho trovato e l'ho trovato in sconto, quindi grazie Martina, altrimenti non ci sarei mai passata. E la cosa fighissima è che questo prodotto a prezzo pieno costa 21€, poi l'avevano scontato a 14,50€, in più ci hanno messo un ulteriore sconto e io l'ho pagato sui 12€, una cosa del genere. E sto parlando di questo prodottino qui, qui leggete tutti i prezzi, tutti i risconti. E questo qui è in teoria un ombretto effetto metallico di Kat Von D appunto che si chiama Thunderstruck, però tutti lo utilizzano come famigerato illuminante ed è quello che ho anche oggi su. E vi giuro che ho fatto tipo così, due o tre volte avanti e indietro, basta. Quindi è assolutamente bellissimo. La cialdina in realtà è così, però ha un sacco di riflessini, ve lo voglio far vedere swatchato. Non so se riuscite a vedere quanto è riflessato. Primo acquisto top. Altro prodottino di makeup, però questo mi è stato inviato da Octoly ed è un prodottino di MAC. Io sto andando in fissa con le palettine e gli ombretti di MAC, mi ci trovo benissimo. Questa qui però è un po' particolare perché fa parte della collezione estiva di Patrick Star, che è uno youtuber americano, un super guru del makeup, è una cosa assurda. Guardate anche soltanto che bello è il pack di questo prodotto. E all'interno ci sono quattro ombrettini con tutte tonalità calde, perfette per l'estate. Io ho una sorta di ossessione per questo tipo di colori. Non li ho ancora utilizzati perché vorrei più avanti utilizzarli con voi. Secondo di MAC, sempre che mi è stato inviato da Octoly, ho ripreso una box con i Fix Plus. In questo caso qui dentro ce ne sono due. Questo qui è lilla e quello alla lavanda. Mentre questo qui è la versione, penso all'acqua di rose e comunque di questo rosino chiaro. Questo è un prodotto must have di MAC, lo sapete, penso sia tra i più famosi. Ed ora, penso col makeup ho finito perché appunto vi ho detto che non volevo prendere troppa roba. Passiamo ai vestiti e accessori eccetera eccetera. Devo dire che non ho acquistato tantissimo da Asos, ad esempio, come facevo gli anni passati. Però mi sono voluta tenere un po' tranquilla con gli acquisti. Perché comunque ho un sacco di vestiti che non ho ancora sfruttato. Non mi sembrava carino nei loro confronti comprarne di nuovi. Quindi ho comprato principalmente da H&M. Qualcosina su Asos, vabbè, ci sta. Poi abbiamo Zaful e Shein. Ah, e logicamente c'è qualcosina anche di Zara. Però la maggior parte delle cose che avevo preso su Zara le ho rimandate indietro perché non mi piacevano per niente. Quindi io direi, vediamo, primo sito che mi si apre così vi leggo anche i prezzi, Zara. Tanto sono soltanto due cosine e sono molto molto carine e le ho pagate poco. Prima cosa è di questo colore che mi sta piacendo un casino con questi capelli che comunque ho relativamente da poco. Ed è una canotta col colletto al lupetto. Cioè, guardate che bello. Vi giuro, mi fa impazzire questo rosso. Il colletto, come vedete, arriva qui. Ha le maniche che arrivano qui, più o meno. Quindi è molto molto comoda. Poi cade abbastanza aderente. E ha questa trama qui, vedete queste leghine. Questa senza saldo costava 9,95 e l'ho pagata 5,99. Quindi direi che ci sta. E poi ho quest'altra che è una chiccheria, vi posso assicurare, è bellissima. Ed è una t-shirt a poix incrociata praticamente sul davanti. È fatta in questo modo, manichetta corta, abbastanza velata, vedete, è trasparentina. Ha i poix tipo pelosini. Questa parte è intrecciata sul davanti, quindi cade così. E comunque non è lunghissima. È da mettere nelle con abita alta, pantaloni, eccetera. Questa qui veniva 9,99, l'ho pagata 5,99. Ci sta tutta. Vi giuro, fa proprio una figura pazzesca. Finito con Zara, passiamo a Asos. Ho comprato questo vestitino, camiciona, vestito, non so come vogliate chiamarla. Che costava addirittura, io non l'avrei mai pagata. Anche perché come tessuto, come qualità, secondo me, non li vale. 40,99 euro, cioè pazzi. È di un marchio che si chiama Monkey. E io l'ho pagata 19,99, che alla fine è un prezzo fattibile. Questa è una di quelle cose che appena l'ho vista mi è venuto un flash. Mi sono immaginata come abbinarla, cosa metterci, in quale occasione. Quindi non vedo l'ora di metterla, perché come vi ho detto prima ancora non l'ho messa. Se volete acquistare questo tipo di capi, io vi consiglio di prendere una o addirittura due taglie più piccole. Perché io vi dico che ho preso due volte questo capo di abbigliamento. Una volta ho dovuto mandarlo indietro perché ero troppo grande. Infatti io la prima volta ho preso la M perché è la taglia che porto. Ebbe essere davvero grande, quindi ho dovuto prendere una S. Potevo anche prendere un XS addirittura, però mi sono tenuta su questa perché io magari ci metto una cinta, non volevo che venisse troppo corta. Ed è fatta sempre a pua bianca e neri, senza farla apposta. Ed è appunto fatta a camiciona. La cosa bella è che ha le maniche corte e ha il colletto. È una cosa che io adoro, maniche corte e colletto. E poi comunque è abbastanza lunghina. Su di me che sono alta quasi 1,70 m, veste più o meno sopra il ginocchio, ma di poco. E sono molto soddisfatta di questo acquisto, molto molto. Poi sempre da Asos, questa cosa ve l'ho già fatta vedere. Soprattutto se mi seguite su 21 Buttons oppure su Instagram l'avrete vista. E sono questi occhiali particolarmente sobri che mi ricordano molto Paris Hilton. Questi venivano a prezzo pieno 21,99. Anche no, perché io portando poi gli occhiali capirete che quelli da sole non è che li porto sempre, anzi. Qui ho detto, magari andranno in saldo, magari andranno in saldo, sì. E li ho pagati 5,49. E sono questi. Sono bellissimi, semi trasparente rosa. E sono enormi. Adesso io me li metto e ditemi se non sembro. La signora che era quest'anno al GF. Lucia, uguale. Tac. Io vi giuro sono letteralmente innamorata. Ultima cosa che ho preso da Asos per quest'anno. Vedete come sono stata brava. Questo paio di sandali che veniva 48,99. Li ho pagati 28,99. Sono stra fighi, stra comodi. Vi giuro li sto indossando quasi tutti i giorni. Anche questi io li ho tagliati su 21 Buttons. Sono questi sandali qua. Ve ne faccio vedere soltanto uno. E sono nel mio stile preferito. Cioè fatti a gladiatore praticamente. Vedete in questo modo qui. Con tutte queste borchiettine piccoline sopra. Con le fibbiette. Calzano benissimo. L'unica cosa è che sono tipo totalmente flat. Vedete? Totalmente piatte. Quindi se vi da fastidio questo tipo di scarpa non fa per voi. Cioè se ci camminate tanto 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 dopo un po' sentite che il piede è un po' accusa perché comunque deve stare un pochino rialzato anche per la schiena eccetera eccetera. Però fanno la loro porca figura. Ed ora passiamo alle cose di H&M. Anche qui ho già rimandato indietro alcune delle cose perché sono questi di anche qui due o tre settimane fa. Quindi se non li avessi mandati indietro poi non mi avrebbero accettato il reso. Ho fatto due ordini. Cioè due tranche diverse. Ho preso questo vestito che è bellissimo. Io adoro i vestiti con le spalle scoperte perché mi piace molto questa parte del mio corpo. Poi sono molto comodi, molto freschi. Ho visto questo e mi sono innamorata letteralmente. Quest'estate sarà l'estate dei bufà ve lo dico. Solo che questo è a base nera. E ha queste maniche troppo carine, svolazzanti. La cosa bella è che qua sopra è fatta ad elastico quindi vi avvolge bene la parte sopra. E sotto invece ha una gonna lunga, 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 lunga. Questo veniva 24,99 e io l'ho pagato 23,99. Quindi fondamentalmente c'è lo sconto di un euro. L'ho appena realizzato. Però comunque mi piaceva quindi l'ho preso a prescindere. L'avrei preso anche se non fosse stato scontato di un euro. Poi ho preso questo vestitino che è una cosa un po' particolare. Perché è un vestitino trasparente glitter. Infatti io sotto ci farò cucire da mia nonna una sorta di sottanina, di sottoabito. Non so come vogliate chiamarlo. Perché così logicamente non è ammettibile almeno per quanto mi riguarda. È fatto in questo modo. Tessuto pieno di perlescenze. E poi sotto cade tutto così morbido. È molto carino però come vedete è trasparente. Questo qui veniva 24,99 e l'ho pagato 7 euro. È per questo che l'ho preso. Poi ho comprato quest'altro vestitino che è sempre a spalle scoperte. Però questo ha tipo dei laccetti. Di questo qua ho preso una S. Avrei potuto prendere anche un XS. Perché come il vestito di prima di Asos è molto molto largo. Quindi se vi piace vi consiglio di prendere anche qui una o due taglie più piccole. Esperienza. Ne ho rimandati indietro due. Questo veniva 39,99 e l'ho pagato 23,99. Quindi direi che c'è un bello sconto. E non lo so è un vestito che mi ricorda molto il mare, l'estate. Adesso si mangerà tutta la luce perché è nero. Questi laccetti che vanno così. Poi la spallina e ha la manica a tre quarti. Molto carina tipo a palloncino. Mi alzo per farvelo vedere. E poi ha la gonna super sballonzolante con questo dettaglio sul fondo. Molto molto bello. Però sapete che io ho un problema con i vestiti semi trasparenti. Infatti quello... Però se lo mettete la sera già non si vede niente. Poi ho preso questo abitino. Che è molto molto semplice. Però è carino. Se lo mettete tipo con una cintura. Anche perché poi è molto fresco e svolazzante. Ed è fatto in questo modo. Con le bretelle tutto a costine. Come vedete la trama del tessuto. Scende giù. E alla fine qua lo spacco si apre. Come vi mostro io i vestiti nessuno mai. Molto presto torneranno i try on haul. Ve lo prometto. Però ultimamente non ho tempo. Quindi ve li beccate così. Questo veniva 19,99. L'ho pagato 11,99. Poi questo è un vestito che adocchiavo da un po' di tempo. Ed è un abitino corto con un volant. Sempre a bretelline. Perché io praticamente sono in fissa con mettere le magliettine sotto questi qui fatti a bretelle. Perché io odio andare in giro con le braccia scoperte. Il mio limite me ne rendo conto. Comunque questo veniva 19,99. Ce ne sono anche diversi colori. E l'ho pagato 13,99. Di questo ho preso una taglia più grande. Perché c'era scritto abito corto. Io odio i vestiti corti. Quindi ho detto magari prendo una taglia più grande. Anche se è largo sopra magari ci faccio qualcosa. E però almeno è un pochino più lungo. Infatti così è stato. Però è molto carino anche da mettere semplicemente così. È uno di quelli molto molto tranquilli. Carino carino questo qui. Poi sempre parlando di abbigliamento. Ho comprato questo t-shirt. Perché io ho davvero poche t-shirt su cui posso fare affidamento. Perché non mi piacciono quelle troppo compresse, troppo strette. E quindi ho preso questa maglia. Che in realtà è tipo fatta a crop. Sempre a righe. Sempre rossa. Così mi sento proprio un gondoliere perfetto. Con scritto boy by. Meglio riderci sopra. È fatta così. Questa è l'unica cosa che riesco a farvi vedere in tutta l'inquadratura. Costava 14,99 e l'ho pagata 5,99. Poi abbiamo un altro abitino nero. Non mi dire. Costava 24,99 e l'ho pagata 11,99. Questo si può mettere sia con le spalle scoperte sia come ho adesso la magliettina. Tipo mezza così. Questo ha anche un sacco fresco. Ed è fatto in questo modo. Vedete? Lo potete sia mettere così che così. Poi ha l'elastico in vita. E sotto ha la gonnellina. Sempre col volando. Poi questa è una cosa che in realtà comincerò a mettere questo inverno, comunque autunno. Perché sono molto pesanti. Però mi piacevano un sacco. Costavano a 19,99. L'ho pagato 9,99. Ed è un tipo di pantalone che io adoro. Cioè come un pantalone della tuta. Più stiloso. Non so come descrivervelo. E poi è di questo colore che è troppo bello. È un verde che non so spiegarvi. Fondo di bottiglia. Non lo so. E best è abbastanza largo sotto. Questo ve lo mettete un po' a vita alta e l'avete fatto. Vedete sotto come allargo. Di questo ho preso sempre la M. E poi, sempre approfittando dei saldi estivi per prendere le cose invernali, ho preso questo cappotto. Che in realtà non è un cappotto di quelli pesanti, ma è sempre per queste mezze stagioni. Costava 49,99. E io l'ho pagato 19,99. Ed è molto carino perché come modello assomiglia molto a un trench. Nero, logicamente. Con la cinturina, adesso cercherò di farvelo vedere indossato questo perché tanto è solo da mettere su. Vedete sopra? È fatto in questo modo. Ha il colletto così che adoro. Maniche, logicamente, lunghe. In realtà è molto carino. Come lunghezza arriva sopra il ginocchio. Quindi direi che anche quello come a questo ci stava. E poi passiamo all'ordine che ho fatto invece più recentemente. Dove però ho preso, mi pare soltanto una cosa. Ed è una felpa oversize con il cappuccio. Se mi seguite da prima di Capodanno saprete che ho messo questa foto su Instagram, proprio il giorno di Capodanno. Dove avevo questa felpa rosa che è praticamente lo stesso modello, solo che l'ho trovata nera. Ma di una taglia più grande perché quella che avevo, che adesso vi faccio vedere, sto ricercando la foto. Era una M. Questa qui è la felpina in questione. Stavo a 24,99 e io l'ho appogata a 9,99. Quindi top. Così è allo spazio per mettere le mani nelle tasche. È una cosa che io d'inverno faccio molto spesso. Non vedo l'ora che sia inverno! E questo è tutto per i miei acquisti. Poi vi faccio vedere le cosettine che mi sono arrivate da Shein e Zaful. Sono una marea. Vi dico subito, cioè metto le mani avanti. Non me ne piace neanche mezza. Ed è strano perché sapete che io collaboro con Shein da anni ormai. Io demo con Zaful e solitamente le cose mi piacciono. Quindi a volte mi fate questa domanda, ma mi consigli questo sito, mi consigli questo sito? Io vi dico che per questi due in particolare non so che dirvi. Perché a volte può andarvi bene, a volte può andarvi male, ma male. Quindi questa volta mi è andata male, ma male. Vi faccio vedere tutto insieme, random. Ma vi lascio tutti i link anche del resto dei capi qua sotto nell'info box, così è riuscito a ritrovare tutto. Partiamo con questa, che è una tutina. Questa sono sicura che è di Shein perché mi ero innamorata, ho detto non vedo l'ora che mi arriva, eccetera eccetera. In realtà è una cracchina. Era carina perché è nera, con i pois, la balza sopra, le bretelline, il pantalone fatto a palazzo sotto, vedete. L'unica cosa è che non so se ho preso una taglia sbagliata io, non mi ricordo neanche se era un M o una L addirittura. Però mi sta male proprio di cavallo, quindi c'è un po' uno scompenso. Comunque io di tutti questi capi che vi faccio vedere, vi metto la foto per farvi capire meglio, perché questi non riesco proprio a farveli capire. Questo vestitino, che faceva molto anni 50 secondo me, ma il tessuto fa letteralmente schifo. La parte sopra è fatta in questo modo, tipo elastica, e la gonna è così. Come vedete ha un tessuto orribile, cioè addosso questo ve lo sentite? Tipo duro, come se fosse una cosa secca, non so come spiegarvi. Ho preso sempre un M, questo calza bene. Allora, questo qui è un po' particolare da farvelo vedere, perché è tutto intrecciato, ha tutti degli intrecci qua sulla schiena, che è bellissimo. Allora, questo è una delle poche cose che si salva, ve lo dico. È una di quelle che vi consiglio maggiormente. L'unico problema è che io ho il seno largo, quindi questo tipo di vestiti io non posso metterlo, perché ha soltanto una fascetta che copre qua davanti. Ma guardate, cioè, cosa copre a me? Non è nulla, quindi questo è il difetto, però se magari avete poco seno, oppure avete un seno bello compresso nella zona frontale, ve lo consiglio, perché questo è bellissimo. Poi, questo è un altro delle cose che probabilmente si salverà. L'unico problema è che è enorme, è immenso. Di questo ho preso una S, perché già dal sito l'avevo visto. È un vestito di questo colore, che in realtà è più scuro di come lo vedete voi. È tipo un bordeaux, un vinaccio. Ha questi nodini qua per fare le bretelline. E poi sottoscende tutto così e ha un super volant in fondo, in fondo, in fondo. Questo, se non lo mettete con una cinta, vi fa effetto proprio sacco della spazzatura. Però il tessuto è bello morbido, non puzza, che è un altro punto a favore. E quindi questo anche mi piace. Poi, qui abbiamo un altro capo che mi ha deluso tantissimo. Ed è uno di quei toppini stile lingerie che vanno tanto adesso. Io li cerco comunque, ma non li ho mai trovati. Qui ho detto fammelo provare a prendere. Ho preso una L, ma è minuscolo. Proprio no. In più il tessuto non è elastico, quindi non aiuta. Poi, questo è una delle cose che mi entusiasmava di più. Già mi ci vedevo fare le foto quest'estate. Però no, assolutamente non è come lo descrivono e come lo fanno vedere sul sito. Ed è un completo, praticamente fatto da un top. Questa è la fantasia, che è molto carina. Vedete il top? Lo chiudete con queste fasce. E poi c'è il suo pantaloncino. Che di taglia va anche bene, perché vedete è bello elastico. Anche di questo ho preso una M. La fantasia è il colore è molto carina. Ma il pezzo sopra, ragazzi, può vedere? Sembra una cinesata. Altra cosa che potrebbe essere teoricamente salvabile, se non fosse che per quanto mi riguarda è troppo corto, è questo vestitino di questo azzurro cielo, che è molto bellino come colore. Vedete, è molto estivo. Fa molto grecia. Maniche corte ed è un vestito fatto a green buele, solo che è molto corto. E io, come vi ho detto prima, odio vestiti corti. Quindi non fa per me, ma molto probabilmente lo cederò volentieri a qualcuno che se lo può mettere. Altro completino, fatto tipo da un top, da un pantalone a palazzo, con sotto il pantaloncino, molto bello. Mi piace un sacco il colore. Una sorta di marroncino. Questo non mi piace proprio, mi sta, ma non mi piace come calza, almeno sul mio tipo di forma, sul mio tipo di corpo. Ho preso sempre una M. Il pantalone è fatto in questo modo, appunto, tipo a palazzo, però poi si apre e vedete sotto ha il pantaloncino. E il pezzo sopra è un toppino. Qua la parte elastica è sopra al pezzo di tessuto. E ora passiamo alle cose di Zaful. Partiamo da questo, un vestitino, giallo a pois. Il problema di questo è che è super trasparente. Poi, altro completo, questa volta è formato da una gonna, di questo color celestino, i bottoncini tipo di legno. Solo che questo è molto stretto, essendo che non è elastico. E la parte sopra, non so onestamente cosa potrebbe coprire, però la fantasia è bellissima. Ma questo, per fare degli shooting, delle foto, è pazzesco. Questa è una delle cose che forse terrò perché è troppo me. Cioè, sapete che ho più tatuaggi, sirenetosi, eccola qua, che altro? Quindi, come potevo non prendere una maglia del genere? Anche di questa avrei potuto prendere una taglia più grande, però non lo sapevo. Ed è una maglia fatta a crop, con le tettine a conchiglia. È bellissima. Questa è anche fatta bene la stampa. Il tessuto è morbidissimo. Poi, qui abbiamo un costume. Io porto praticamente quasi esclusivamente pezzi interi. Quindi questo ho detto no, fighissimo. Solo che ho preso una M, ma è molto corto. È corto proprio di busto. Quindi non faccio in tempo a calzarlo nella parte sotto, che non arriva nella parte sopra. Ed è bellissimo, perché è rosa, con lo sfondo di tutte banane. Cioè, è troppo tumbler questo, raga. In più è fatto bene, vedete, dentro alle coppette inserite addirittura. Però ha questo disagio. Poi ho questo pantalone stile culotte, che molto probabilmente anche questo lo terrò, perché alla fine è carino. Io adoro questo tipo di pantalone, che è sempre a palazzo e poi ha questo fiocchetto, che vi copre anche un pochino la panza. Un po' tattico, vedete? E poi appunto scende giù così. Il problema di questo, voi non lo vedete, ma contro luce si vede tantissimo, che è trasparente. Quindi devo un pochino valutarlo. Poi c'è questo vestito, che è molto simile a quelli che ho preso di Cinemma, ad esempio. Off shoulders, con tutto il merlettino qua. Però essendo che è bianco, è super trasparente, ed è abbastanza corto. Però è molto etereo, molto carino. Poi questa è un'altra delle cose che, probabilmente, terrò, perché è molto carina. Ed è un toppino. Di questo tessuto fatto di maglia pesante, d'estate non è fattibile. Però se non tu metti l'estate quando te lo metti. Comunque è sempre, vedete, a spalle scoperte, ed ha questo pezzetto, che si mette così e fa tipo polsino. È troppo carino, mi piace molto. È molto elastico, molto comodo. È bello avvolgente, mi piacciono i colori. Infatti addirittura ne ho preso un altro. Questo è più su rosa, più sui colori arcobaleno, questo è un po' più pastelloso, vedete? Poi ho preso questo vestito, che è un altro delle cose che terrò, perché è molto simile a quello di H&M, con il pezzo sopra identico a quello di H&M, e poi ha la gonna tutta svolazzante, solo che, praticamente, il problema di questo è che ha la sottanina sotto, troppo corta, però comunque ha questo velo davanti, quindi in qualche modo è portabile. Poi abbiamo questo top che prometteva benissimo, però il tessuto è assolutamente un no. Il colore mi fa impazzire, è tipo un arancio bruciato bello. Qua, ritorniamo, e questo sarebbe un top che in teoria va chiuso, per questo è un no. Ultima cosa, poi vi lascio libera la vostra vita, è un vestitino off shoulder, quindi così, tra l'altro è arighette verdi e bianche, solo che è minuscolo. Non capisco dove dovrei mettermelo io, una cosa del genere. Ok che ha l'elastico in vita, però è super stretto, quindi se questo vi piace tanto, io vi consiglio una, due tagli in più. Quindi, detto ciao, il video haul è finito qua, scrivetemi come sempre nei commenti, qual è stato il vostro capo preferito. Vi ripeto tutti i link dei capi, almeno quelli che riesco a reperire, li trovate sotto in info box. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!